Un saluto da Luca Di Credico e benvenuti al campo sportivo Ettore D'Agostino di Zanni a Pescara. Si gioca la terza gara del gruppo B della Coppa Abruzzo. Eccellenza femminile tra le padrone di casa della cantera adriatica e le ospiti della Teramo Women. Ospiti con assoluto bisogno della vittoria in virtù della minor differenza reti in favore della cantera adriatica. Al quinto minuto, prima occasione del Teramo, trova un buco nella difesa di casa Benedetta Marra e si invola verso la porta ma al momento del tiro alza troppo la conclusione. Continuano a insistere le ospiti, sedicesimo minuto rubano palla le Biancorosse e Casa Santa trova un gran filtrante all'indirizzo di Benedetta Marra che non può sbagliare a tu per tu col portiere. Non sbaglia, 0-1. È immediata però la risposta della cantera, errore grave di Biancucci che spiana la strada alla conclusione di Fusco che trova il secondo palo e il pareggio, 1-1. Ed è sempre pericolosa Giulia Fusco per la cantera, ventottesimo minuto si presenta da calcio piazzato. La sua parabola però spiora solo il palo. Nel Teramo Women è scatenata Benedetta Marra, 33esimo minuto scambia con Tomolati la numero 9, poi parte in velocità, arriva al tiro però la piazza centrale. Al 35esimo minuto grave ingenuità della difesa Biancorossa, prende palla Fusco, rientra sul destro e calcia a giro, spiorando il gol. 1-1 momentaneo alla fine della prima frazione tra cantera adriatica e Teramo Women decidono finora le marcature di Fusco e Marra rispettivamente per le padroni di casa e le ospiti. Vediamo cosa succede ora nel secondo tempo. E nei secondi 45 di gioco rientra meglio la cantera adriatica, qui al settimo minuto riesce a tenere palla ancora Fusco che arriva sul vertice sinistro dell'area di rigore, e calcia a sfera, bloccata da Biancucci. Al 18esimo minuto si fa rivedere in avanti la Teramo Women, Ruffini decide di mettersi in proprio, prende palla e da 30 metri scaglia un bolide che si infrange sulla traversa. Riprende il controllo del gioco la Teramo Women, questa volta è la neo entrata ad Agostino che riesce a trovare un buco nella difesa di casa e prova la conclusione in porta, non di molto fuori. Continuano a insistere le ospiti, ripartenza veloce della Teramo Women con Marra imbeccata alla grande da Agostino che si carica la squadra sulle spalle e con il suo sinistro trova la doppietta personale e porta in vantaggio nuovamente le biancorosse. La cantera però non si arrende, prova a trovare il pareggio che la porterebbe in finale, 48esimo minuto semina il panico, Giulia Fusco entra in area e qui Biancucci ci mette del suo, bloccando la conclusione. Finisce 1-2 la Teramo Women trascinata da una benedetta Marra assoluta, MVP accede alla finale dove incontrerà l'Abbacigalupo, non riesce a tenere il risultato del primo tempo, la cantera è a trovare la finale eliminata dunque quindi dalla Coppa Abruzzo.